buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 3 aprile 2024 vediamo subito il santo del giorno per poi leggere i giornali ci sono tante tante notizie questa mattina fresche fresche per quanto riguarda il dopo pasqua dopo la piccola stasi delle festività pasquale infatti riprende il fervore dell'attività politica che si avvicina verso il 7 il 7 aprile che è la data delle primarie per quanto riguarda il centro sinistra ne parleremo più tardi adesso vediamo subito il santo del giorno attraverso l'almanacco e vediamo che oggi si festeggia san riccardo di cicester visse nel tredicesimo secolo originario dell'inghilterra viaggiò molto fu anche in italia ma poi tornò in patria e ricoprì importanti cariche di carattere ecclesiastico rettore dell'università di oxford cancelliere dell'arcivescovo di canterbury nel 1253 predicò con grande successo la crociata e fu canonizzato nel 1262 da papa urbano quinto ora riposa nella cattedrale di cicester di cui fu nominato vescovo questo è san riccardo vediamo ora le previsioni del tempo e vediamo che il tempo oggi si mostra più incerto rispetto alla giornata di ieri inizialmente sereno oppure velato sulle marche dal pomeriggio arriveranno nubi in aumento da nord con locali fioviggini su urubinate e sul pesarese i venti sulle coste espireranno con una tensione debole da sud ovest così come nell'entroterra le temperature 12 la minima 18 la massima il sole è sorto alle 6 e 45 e tramonterà alle 19 e 36 e bene espletate queste formalità iniziali possiamo dare un'occhiata ai giornali a partire oggi dal resto del carlino ed eccola l'apertura dedicata tutta a maria flora gian marioli ex presidente dell'ente carnevalesca dalla giornata di ieri ieri infatti la gian marioli ha formalizzato le sue dimissioni per intraprendere una nuova fase della sua vita si dedica alla politica e parteciperà alle elezioni sarà in lista con fratelli d'italia un partito del quale non ha mai fatto mistero per quanto riguarda le sue simpatie le sue preferenze politiche quindi sarà in lista con fratelli d'italia e proprio ieri nel momento in cui ha annunciato formalmente le sue dimissioni era con lei anche la segretaria del partito loretta manocchi insieme al candidato sindaco di tutto il centro destra luca serfilippi ma ovviamente l'intervista che oggi anna marchetti fa sul resto del carlino alla candidata si riferisce soprattutto all'ente carnevalesca come la lascia come la trovata quali sono le prospettive ebbene innanzitutto la situazione finanziaria evidenzia un deficit al momento ci sono 50 mila euro da ricoprire e sono quelle 50 mila create da un vuoto che all'improvviso ha provocato il governo quando era ministro franceschini che avendo promesso un candidato ai carnevali storici espletate le spese ha annullato il contributo effettuando un buco considerevole all'interno dell'ente e ovviamente adesso dovrà occuparsene il successore e allora vediamo qualche domanda che la giornalista fa alla Gian Marioli si vede nel ruolo di assessore alla cultura o ai grandi eventi ebbene la risposta svicola un po' questa ed è logico che lo faccia questa domanda dicendo non bramo nessun incarico non ho bisogno di un posto di lavoro né di visibilità vedremo quello che accadrà insomma ovviamente lascia aperte tutte le porte tutte le porte la Gian Marioli ma parliamo di carnevalesca parliamo di carnevalesca secondo quello che dice la Gian Marioli la carnevalesca sopravviverà alla sua alla sua rinuncia sono entrati due nuovi componenti del consiglio di amministrazione perché anche perché oltre alla Gian Marioli si è dimesso anche il suo vicepresidente per quanto riguarda Stefano Mirisola ci sono altri due nuovi ingressi e sono Alessandro Eusepi e Giannetto Palluzzi poi il direttivo dunque dovrà riunirsi per eleggere il nuovo presidente e vediamo anche come il Corriere Adriatico tratta questo argomento il giornale si sofferma soprattutto sui candidati che dovranno aspirare a questa carica perché fare il presidente della carnevalesca non è una passeggiata ci sono molti oneri e pochi onori oserei dire infatti la carica non è ritribuita e del tutto volontaria ma invece l'esposizione finanziaria di colui che assumerà questo incarico è particolarmente gravosa dovrà dare lui stesso con i propri beni la garanzia di tutti i pagamenti e secondo l'alternanza dei contributi che giungono, non giungono, giungono in ritardo insomma la cosa non è tanto simpatica ed è per questo che il nuovo candidato sindaco del centro-destra ha promesso se verrà eletto che cambierà la situazione ed è proprio un'istanza questa che la consigliera fa perché il nuovo presidente sia più tutelato Gian Marioli si vota alla politica c'è il totonomi della carnevalesca e chi sarà il nuovo presidente? e beh si fanno delle supposizioni ovviamente perché non c'è una gran corsa a fare il presidente della carnevalesca l'ultimo vicepresidente che è rimasto in carica Daniele Carboni ha detto che io non ne voglio sapere perché ho un'attività e non posso metterla a rischio ci sono poi altri componenti della giunta che collabora più strettamente con il presidente ci sono anche dei nuovi ingressi che possono così costituire l'asso nella manica e staremo, staremo a vedere continuiamo le notizie sul resto del Carlino e vediamo un episodio di cronaca a fondo pagina trovato morto a 52 anni, disposta all'autopsia si tratta di un abitante di Centinerola Michele Mattioli, 52 anni, fanese, impiegato di banca, figlio di storici commercianti lo ha rinvenuto senza vita, riverso nel suo letto il figlio la sera della vigilia di Pasqua andando a trovare il genitore per le feste ebbene non è l'unico caso che si è verificato per quanto riguarda queste morti solitari all'interno delle proprie abitazioni in precedenza è stato trovato deceduto ugualmente nelle stesse condizioni Giacomo Gambelli, 53 anni, ex imprenditore edile separato due figli di Marotta e poi anche Davide Charles Roos, americano di 50 anni residente a Fano bene la procura della Repubblica nonostante che si supponga che sono morti naturali ha così fatto delle inchieste per saperne di più e per insomma formalizzare tutto quanto è avvenuto vediamo quest'altro articolo che riguarda il clero della nostra comunità in clergyman da tutta Europa i prelati si sfidano a tennis ebbene lo sport è anche una componente importante per la missione evangelica e i preti devono tenersi in forma i prelati si sfidano a tennis al via lunedì prossimo vince chi serve questo è il titolo del torneo vince chi serve perché a tennis chi serve è avvantaggiato ma anche chi fa la missione del sacerdote sposa questa tesi il servizio è la cosa più importante per un sacerdote che si mette a disposizione degli altri il torneo annovera vescovi, sacerdoti, diaconi in città è previsto per lunedì l'arrivo di tanti religiosi saranno una trentina provenienti da quattro nazioni ovvero Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e Italia alloggeranno nel prelato basso e poi giocheranno insomma nei campi della trave e sarà uno bello spettacolo vedere qui vediamo anche Don Francesco Pierpaoli che parteciperà senz'altro a questa iniziativa sportiva lui è anche un fisico atletico e quindi si farà valere per quanto riguarda la sua perizia e il suo amore per lo sport bene, giriamo e passiamo ad altro argomento aumentano i cani abbandonati ma pure le adozioni il resto del Carlino fa un'inchiesta per quanto riguarda l'associazione Melampo che gestisce il canile di Tre Ponti un nostro viaggio a Melampo c'è disperato bisogno di aiuto l'associazione Melampo è composta di volontari che si dedicano ad accudire i cani abbandonati in modo particolare i cani malati che hanno bisogno di affetto che hanno bisogno di cure che hanno bisogno di quel senso civico che ama, che fa sì che anche gli animali vengano rispettati ebbene c'è tanto bisogno di aiuto sono più di 80 i piccoli amici così vengono definiti ospitati attualmente nella struttura comunale e pensate, ultimamente ci sono stati cinque cuccioli piccoli cuccioli di cane abbandonati pochi giorni fa nelle campagne di falcineto pieni di rogna e paressiti intestinali sono stati prelevati, sono stati accuditi sono stati anche risanati per le loro condizioni erano veramente ridotti i mali e quindi ora aspettano le famiglie per essere adottati con loro salgono ad otto in questi primi tre mesi dell'anno gli ingressi in struttura un numero altissimo considerato che in tutto il 2023 erano stati 13 ma anche le adozioni sono proporzionalmente aumentate per fortuna dall'inizio dell'anno all'altro ieri sono state addirittura 16 no, sono state 7 nel 2023 sono state 16 in tutto l'anno tra queste c'è la bella storia di Rossella una cagnolina di quasi 13 anni adottata proprio qualche settimana e mi invito a leggere questa piccola storia ed ora diamo un'occhiata anche a quello che accade a Mondolfo in fatto di sanità a Mondolfo guardia medica ridotta all'osso veramente un servizio importantissimo che è carente non solo a Mondolfo ma in tutto l'entroterra in aprile il servizio di continuità assistenziale che ha sede nell'ospedale Bartolini a Mondolfo sarà garantito appena per nove turni su 42 è una situazione difficile considerando il bacino di utenza di oltre 18 mila persone per tutto il comune di Mondolfo e anche il suo circondario infatti si coinvolge anche Marotta ovviamente Marotta fa parte di Mondolfo ma anche San Costanzo e vediamo anche come la situazione dell'agricoltura continui a essere critica meteo e piaga burocrazia agricoltura fanese in ginocchio lo rileva l'ex euro deputato Francesco Baldarelli ex sindaco di Fano che dice che la nostra agricoltura basata su processi di qualità e di identità non può più reggere la concorrenza globale dei grandi gruppi che operano in Canada in Ucraina in Argentina Stati Uniti e Russia ebbene e qui occorre un intervento deciso dell'Unione Europea ma in questi giorni l'Unione Europea ha altro a cui pensare perché soffiano più insistentemente venti di guerra parliamo di Urbino e vediamo come la popolazione urbinate abbia segnato un piccolo aumento e vediamo come crescano gli abitanti della città Ducale lo afferma il sindaco Gambini controtendenza sul calo dei residenti il 2023 si è chiuso con un piccolo aumento e vediamolo questo aumento in questa tabella che pubblica oggi il resto del Carlino ebbene i nati nel 2019 erano 81 nel 2023 sono scesi a 71 gli immigrati invece sono saliti erano 374 nel 2019 i residenti nella città di Urbino e oggi nel 2023 sono 552 una crescita importante e vediamo ai residenti i residenti erano sempre in calo erano sempre in calo erano 14.102 nel 2019 erano poi diminuiti a 13.981 nel 2020 13.926 ancora in calo nel 2021 ancora in calo nel 2022 13.831 ed ecco l'inversione di tendenza nel 2023 da 13.831 sono saliti a 13.872 non sono molte le unità però è un segno importante che dimostra come Urbino tenda un pochino a crescere di popolazione e a proposito di politica urbinate vediamo che Francesca Crespini lancia futura la mia lista parte da Canavaccio si tratta di una lista civica lanciata dalla candidata sindaco di Urbino venerdì è in previsione un flash mob alle 17.30 davanti all'ex Oscar vediamo vediamo anche qualche notizia di Pesaro di Pesaro dove cosa accade accade che c'è una dichiarazione dell'albergatore Nardo Nardo Filippetti uno dei più rappresentativi del capoluogo pesarese che valuta un po' quello che è accaduto durante le festività di Pasqua Pasqua che turismo è stato ebbene soltanto mordi e fuggi seppure c'è stato qualche turista da Pesaro 2024 mi aspettavo di più sì perché Pesaro con la promozione effettuata come città capitale della capitale nazionale della cultura avrebbe dovuto attirare più turisti però insomma le condizioni del tempo non erano ideali poi la Pasqua era molto bassa quest'anno per incrementare le presenze turistiche ed ora vediamo come un operatore del CUP quelli che rispondono dopo molto chiamate quando un cittadino ha bisogno di formalizzare una richiesta di una visita ospedaliera ebbene anche lui operatore del CUP che risponde come cittadino ha bisogno poi di riferirsi al CUP e quando lo fa si trova nelle stesse condizioni degli altri aspetto da un anno ha detto questo operatore si tratta di un pensionato pesarese che racconta proprio la propria odissea si tratta di Domenico Bavusi di 69 anni aspetto da un anno di fare esami cardiaci e ancora non ci riesco non è l'unico purtroppo anche lui si trova nelle stesse condizioni però è sintomatico come un operatore che ha passato la vita a rispondere al telefono dicendo guardate che non ci sono ancora possibilità di fare gli esami presto anche lui si trovi nelle stesse condizioni si è spento Galeazzo Boattini un personaggio molto noto a Pesaro ha passato una vita con la passione delle automobili si è spento ieri nel sonno a 87 anni ebbene il Carlino riporta la sua passione sconfinata per quanto riguardo le auto di cui era un grande collezionista baciò una bambina e finì in manente può sostenere il processo si tratta di un extra comunitario che così gli ha preso l'idea di andare a baciare una bambina di 11 anni la quale poi è andata dai genitori e ha raccontato quello che è accaduto però prima di condurlo a processo gli è stata fatta una perizia psichiatrica per valutare le sue condizioni di sostenere le udienze e questo è stato accertato quindi c'è l'avvio a procedere per quanto riguarda questo extra comunitario vediamo ancora altri articoli che riguardano il resto del Carlino allarme affitti introvabili ecco il patto dell'abitare sperando che funzioni ebbene in Comune a Pesa è stato firmato un accordo con le rappresentative sindacali degli inquilini per quanto riguarda gli affitti per quanto riguarda la disponibilità degli appartamenti e si procederà con un censimento degli appartamenti sfitti sia quelli comunali che quelli dei privati per poi dare degli incentivi anche ai proprietari affinché gli appartamenti vengano messi a disposizione e non rimangono sfitti mentre all'esterno c'è una grande richiesta di appartamenti ed è la crisi e di lì la crisi abitativa che ancora pervade ancora insiste nel nostro territorio ed ora passiamo all'esame del Corriere Adriatico abbiamo già visto l'apertura dedicata alla Gianmarioli che si vota alla politica e poi si parla del totonome della carnavalesca mentre l'articolo della prima pagina è dedicata a quella azienda che veniva attacciata di un inquinamento ambientale per il forte odore che emetteva si tratta di una ditta che lavora il caffè però la ditta interviene e dice che tutto quello che è stato fatto fino adesso è stato fatto anche sotto ricorrenti controlli che sono stati eseguiti e risultato tutto regolare misurazioni sempre regolari investiamo sulla sostenibilità esposto per le emissioni l'amministratore delegato di Ultramar Caffè replica mai calata la produzione presto ci sarà anche un open day quindi la ditta si apre e si manifesta non solo ai residenti che hanno protestato ma anche a tutti i cittadini fanesi le emissioni misurate in questi anni dall'azienda secondo le prescrizioni dell'autorizzazione ambientale sono sempre state regolari inoltre da maggio a settembre dell'anno scorso abbiamo ricevuto numerose ispezioni da parte delle autorità sanitarie e ambientali che non hanno mai riscontrato il superamento dei limiti di legge questa appunto è la dichiarazione della società e poi vediamo quello che rimane del Carducci dell'ex Carducci ormai un cumulo di macerie perché lo stabilimento scolastico è stato demolito a suo posto dovrà sorgere un nuovo edificio che dovrà ospitare un po' diversi indirizzi del liceo Nolfi a Polloni edificio demolito il Carducci non esiste più quasi cinque anni fa la sentenza tecnica sulla inidoneità statica della scuola insomma sembra che non potesse più ospitare gli alunni perché poteva crollare da un momento all'altro non è crollato se non sotto i colpi delle benne che lo hanno demolito si schianta di notte contro un albero e questo è un altro incidente mortale che si è verificato nel nostro territorio un cercatore di tartufi morto sul colpo si tratta di Simone Capoccia di 44 anni molto giovane di Pianello l'incidente si è svolto a Secchiano con lui il cane il cane che era un cane da tartufi che è rimasto illeso l'incidente si è verificato sulla strada provinciale 29 a chilometro 8 più 300 in località Romita a Secchiano di Cagli in direzione Pianello ebbene Cordoglio dunque per questo incidente sembra che abbia fatto tutto da solo un impatto fatale contro un albero alla fine di una corsa che poi non è riuscito a tenere sotto controllo la propria vettura vediamo anche la pagina di Pergola che con il raduno dei camperisti ha ottenuto un altro successo come lo tiene quasi ogni anno perché sono stati diversi i gruppi che sono giunti un po' da tutta Italia per vedere la città dei bronzi ma anche la città delle chiese la città di tanti altri beni culturali è anche una città importante dal punto di vista gastronomico così come lo è Pergola vediamo anche la pagina di Senigaglia quest'anno dedicata al consultivo dell'attività della BCC di Corinaldo la banca di credito cooperativa di Pergola e Corinaldo c'è un'assemblea che si terrà a Palazzo dello Sport di Corinaldo vediamo il 5 maggio prossimo e saranno evidenziati tutti i resoconti dell'attività della banca siamo quasi in conclusione vediamo anche sul Corriere Adriatico la pagina di Pesaro un patto per la casa scatta il censimento per gli alloggi sfitti ne abbiamo parlato e vediamo come Pesaro cerca di soccorrere tutti i problemi che riguardano l'emergenza abitativa e con questa notizia terminiamo la rassegna stampa come sempre appuntamento alle 7 di domani mattina e ricordatevi che oggi questa sera ci sarà anche un'intervista politica ai quattro candidati che domenica prossima si sfideranno per le primarie del centro-sinistra grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto